strada provinciale dicevo strada provinciale 56 scandale crotone nel tratto ancora marciabile visto che più sotto poi è stata chiusa questa è una piccola diciamo frana ma qui si passa quasi normale poi c'è c'è quest'altro quest'altra interruzione proprio come vedete prima di una curva qui si rischiano spesso incidenti e onestamente non credo ci vogliano molti soldi per sì la frana la frana in effetti in effetti c'è però non credo ci voglia molto per sistemare questo tratto di strada e rendere la marcia tranquilla gli scandalesi ai san mauresi che giornalmente percorrono questo tratto di strada è davvero una vergogna come il presidente della provincia stanislao zurlo e il suo assessore ai lavori pubblici e via dicendo lasciano lasciano questa strada in queste condizioni come ho già detto in altre parti in radio sui giornali e tornando col pullman abbiamo rischiato per poco l'incidente col pulmino che porta i bambini di corazzo a casa che il pullman veniva da crotone il pulmino se sono fermati entrambi sulla corsia di di marcia da chi viene da crotone lo scontro è stato evitato davvero per la bravura degli degli autisti e onestamente non so dove zurlo chi per lui spendano i soldi della provincia sempre se la provincia di catona ancora dei dei soldi ma è davvero una vergogna e la sistemazione di queste reti di protezione di queste reti di sicurezza è stata fatta dai volontari della progiv tempo fa per fortuna che sono stati fatti quei lavori su questa statale è stata le 107 bis perché grazie ai drenaggi grazie ai lavori sulle cunette eccetera le ultime piogge quelle che poi hanno provocato le frane in tutta la molte state della provincia questa stata a parte le frane storiche ha tenuto abbastanza immagino quello che poteva sarebbe potuto succedere se non fossero stati fatti quei lavori diciamo volontari dai cittadini di scandale dalle associazioni e dalle ditte che hanno messo a disposizione i mezzi il segnale indica che si deve si dovrebbe andare a 20 all'ora ma non non lo fa dall'altra parte mi sembra che addirittura c'è i 10 chilometri allora sul lato di marcia è assurdo anche questo ma che volete non dicevo non lo fa nessuno e onestamente questi più o meno saranno i voti che prenderà Zurlo se dovesse ricandidarsi